gentili telespettatori buona giornata non ci si può credere il povero gatto grisù sparisce dal treno fatto deplorevole poverino è stato fatto scendere qualcuno l'ha trovato e l'ha mandato giù alla prima stazione alla prima stazione spiace per il povero gatto e per i genitori scusate per i proprietari del gatto che hanno dovuto hanno perso il loro caro diciamo così anch'io ho avuto un gatto un gatto nero e bianco era cattivissimo però si chiamava sissi come la principessa però ci si affeziona gli animali di compagnia ovviamente quindi posso immaginare il dolore ma io mi chiedo che cacchio ci faceva il gatto in giro per il treno da solo se sei con i tuoi padroni sei nella gabbietta o in braccio per essere in giro da solo ma che significa un gatto a spasso per il treno ecco così il caso del gatto grisù cacciato per errore da un treno a pescara mentre i proprietari dormivano svelato dormivano ma se dormivano il gatto era libero di andare in giro non c'era un guinzaglio una gabbietta no i proprietari dormivano e il gatto viene cacciato per errore da un treno e così sbarca in parlamento con un'interrogazione a firma della deputata 5 stelle daniela torto avrà torto a fare una un'interrogazione parlamentare dice così ad allontanare il gatto dal mezzo è stato proprio il capotreno mi auguro che presto grisù ritorni dalla sua famiglia ma allo stesso tempo ritengo che l'accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e non è stato fatto in che senso spiega la parlamentare grillina abruzzese in un video postato sulla pagina facebook annunciando la presentazione di un'interrogazione per fare luce sulla scomparsa del felino per la torto che è il cognome della deputata serve una rivoluzione culturale anche nel mondo animale un mondo prosegue troppo spesso aggredito e mai ritenuto alla pari del mondo dell'essere umano non tutti gli utenti però apprezzano l'iniziativa e sotto il posto della deputata grillina fioccano commenti ironici onorevole oggi capisco quanto è dura la vita da parlamentare dice un utente mentre un altro dice poteva essere di qualsiasi partito ed invece ecco vorrei farvi riflettere su queste due commenti il primo onorevole capisco quanto è dura la vita da parlamentare questo questo è risaputo no come dire ma te non c'è nient'altro da pensare al gatto grisù che hai letto nelle notizie e fai l'interrogazione parlamentare sul gatto sceso dal treno questo vi fa capire che realmente non hanno niente da fare come diceva il buon fioramonti ex 5 stelle professor fioramonti all'università del sudafrica quando è andato via dei 5 stelle diceva certo che io in sudafrica mi annoiavo a lì all'università lavoro noioso ma diceva ma quello del parlamentare realmente non si può neanche definire un lavoro qui non si fa assolutamente nulla ecco è questo il commento dice onorevole oggi capisco quanto è dura la vita da parlamentare e l'altro che scrive poteva essere di qualsiasi partito ed invece ovviamente dietro questa affermazione c'è un mondo il mondo dei grillini di quei politici per caso assunti tra la gente comune portati in parlamento sul proscenio del paese no e insomma di questi casi di questi politici per caso che vengono fuori con queste cose come dice il commentatore anonimo poteva essere di qualunque di qualsiasi partito ed invece come dire tu senti queste cose e senza sapere di che partito è lo scrivi su un foglio vedete come i veggenti no non mi dire di che partito è guarda ho una visione lo scrivo qua lo scrivo qua sul foglio dire non me lo dire non me lo dire è del movimento 5 stelle come hai fatto indovinare ma i partiti sono tantissimi come hai fatto a pensare che potesse essere una grillina e beh insomma ho delle visioni c'ho delle visioni insomma ecco quando senti un qualcosa del genere sai sempre che sono politici dei 5 stelle questo che cosa vuol dire ve lo lascio dire a voi che cosa vuol dire è evidente c'è una politica in generale nel parlamento montecitore senato di bassissimo livello nel senso come si può pensare di scrivere su facebook faccio un'interrogazione parlamentare perché è sparito il gatto grisù il mondo animale non è trattato non è considerato come il mondo degli umani certo rimani chi sente questo rimane così con lo sguardo un po fisso come quello sguardo fisso che ha letta e quando gli dicono ma che fa letta lui sta guardando al dopo come il corriere della sera dice è arrivato un leader mamma che leader lui guarda al dopo ecco tra letta così che guarda verso l'infinito dice ma cosa sta facendo silenzio non non disturbate letta sta pensando al futuro al dopo diciamo al dopo che al dopo cena al dopo e così quando senti questi questi grillini con queste uscite tu rimani un po così un po come letta guardando l'infinito e si dico cosa stai pensando penso al dopo la cosa succederà dopo 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 queste persone che cosa ci può essere di peggio dopo una persona che mi fa un'interrogazione parlamentare perché è sparito il gatto dal treno con tutto il rispetto per il povero micio avuto anch'io un micio per 15 anni e con tutto il rispetto e l'affetto che si possa avere per il gattino per il cagnolino come puoi pensare di fare un'interrogazione parlamentare perché grisù è stato fatto scendere dal capotreno perché non era nella gabbietta doveva stare nella gabbietta e come si può dire una cosa del genere però nei video chi mi segue da da tanti mesi sa che abbiamo spesso parlato di quello che pensano i grillini no dalle cozze pelose agli autobus che vanno a popò leni che fa i prati 370 gradi condizionatori che aumentano il pil l'arrampicata sulle torri dell'ilva al posto dell'ilva facciamo un parco di arrampicate dice ma stai scherzando ma dai stai dicendo delle delle barzellette non sono delle barzellette questa è la realtà speriamo presto che con le nuove elezioni questo tipo di politici vengano allontanati dalla politica che tornino ai loro lavori a fare quello che facevano prima cioè molti niente che tornino a fare quello che facevano prima così possono scrivere su facebook fare tutto quello che vogliono ma in parlamento no per favore vi prego non votatevi più grazie a tutti